orsogna è la seconda guerra mondiale memoria storica da non disperdere e riannodare i fili con un passato che seppur doloroso merita assolutamente di essere conosciuto soprattutto dai più giovani in consapevolezze preziose per non ripetere gli stessi errori orsogna fu teatro di ben 5 durissime battaglie alla fine del 1943 con i neozelandesi dell'ottava armata alle prese con la tenace resistenza tedesca il 28esimo battaglione maori sacrificò centinaia di uomini coraggiosi venuti dagli antipodi per combattere in una terra straniera il paese subì gravissimi danni tra bombardamenti macerie morti paure la popolazione che vide la guerra in casa l'ottantesimo anniversario di quei tristi giorni è stato commemorato presso il teatro comunale con la partecipazione degli alunni del locale istituto comprensivo straordinaria la partecipazione del delegato maori garopo tapio in rappresentanza del battaglione a lui il sindaco salerni ha donato un piatto in ceramica con la classica presentosa due cuori che si uniscono in un affetto e nella riconoscenza reciproca una pietra verde dall'identico significato il dono maori ringrazio tutti per aver ricordato con grande affetto e riconoscenza i soldati maori caduti grazie a tutti per tenere sempre viva la memoria il mio popolo è grato a tutti gli italiani per aver condiviso insieme una storia seppur dolorosa la storia dei nostri antenati la conserveremo per sempre dalla nuova zelanda in tanti verranno per visitare i luoghi della memoria significativi ed utili contributi degli storici presenti saverio malatesta autore di orsogna 1943 armando de grandis membro della deputazione di storia patria il ricercatore andrea de marco riccardo fusilli presidente erma con l'obiettivo di riscoprire tracce e luoghi del passato nella valorizzazione storico culturale nell'occasione è stato proiettato il documentario realizzato proprio da telemax dal titolo il ritorno dei maori in occasione della visita dei discendenti maori ai caduti presso il cimitero di guerra di torino di sangro lo storico saverio malatesta la battaglia di orsogna è sicuramente una delle battaglie più importanti del del sangro raccontare ai giovani è importante perché loro saranno i veri ambasciatori della conoscenza della battaglia di orsogna ed è importante farvi conoscere i luoghi che ancora in qualche modo silenziosamente ci parlano e ci raccontano di cosa è stata la battaglia e di cosa hanno provato i soldati che qui hanno combattuto e presso il centro polivalente a cura dell'erma associazione esploratori ricerca memoria abruzzo è stata inaugurata una mostra di reperti bellici presente anche il nuovo gioco di simulazione ispirato al libro di malatesta il titolo orsogna 1943